Musica Musica Benvenuta o benvenuto sul nostro sito, vi presento sono Rita Antonelli e 16 anni fa nel 97 per esattezza ho costituito questo network di professionisti, tutti provenienti dal mondo delle aziende. Di cosa ci occupiamo? Tre sono le aree fondamentalmente, formazione, coaching e consulenza. Che tipo di formazione? Formazione di tipo esperienziale, comportamentale. Anche qui tre sono le aree di maggior riferimento, che sono l'area del management, l'area delle vendite e lo sviluppo personale. E riguardo al coaching, che tipo di coaching? Quello che si chiama executive coaching, quello che serve alle persone che in azienda devono fronteggiare come sfide, che magari hanno acquisito ruoli di un certo valore e hanno bisogno quindi o di migliorare alcune competenze o addirittura acquisirle di nuove. Sono programmi di sei mesi dove naturalmente si va a lavorare proprio sulla persona. Che tipo di consulenza? Manageriale e marketing e vendite. Manageriale in quanto alcuni di noi sono certificati APCO, che è l'associazione professionale per i consulenti di management. E quindi ci occupiamo dell'analisi di clima, dell'assessment, dell'organigramma delle aziende. Per quanto riguarda la consulenza di marketing e vendite, tutto ciò che è inerente al prodotto e al servizio, è quindi l'introduzione sul mercato, le nuove forze di vendita e tutto ciò che gravita intorno a questo mondo. Vorrei segnalarvi di dare un'occhiata alla pagina dei video perché abbiamo pensato di donare questi video che altro non sono che dei suggerimenti, delle esperienze che abbiamo voluto trasmettere relativamente a temi che ogni giorno bene o male dobbiamo affrontare. In particolare parliamo di come rendere per esempio le riunioni efficaci, come motivare un collaboratore pur dovendolo abiasimare, come trattare con persone, inteso come clienti, colleghi, con il capo, che magari non è poi così tanto simpatico. E poi come fare al lavoro quando ci sono ovviamente uomini e donne e il cervello sappiamo che è diverso quello maschile da quello femminile e viceversa. Ed infine l'ultima pagina, quella dei contatti, quella dei commenti. Sarà nostro grande piacere ricevere commenti, suggerimenti, tutto quello che riterrete utile e facci sapere. E ci auguriamo anche di trovare qualche richiesta di approfondimento, perché no? Auguro una buona navigazione a tutti e tanti cari auguri di successi personali e professionali.